Anche quest'anno l'ambizioso riconoscimento assegnato dalla FEA ha premiato la costa terramana. La bandiera blu dunque continuerà a sventolare ancora sulle sette sorelle che ricordiamo sono Martinsicuro, Albadriatica, Tortoreto, Giulianova, Rosetto, Pineto e Silvi. Riconoscimento che rappresenta anche il grande lavoro che le amministrazioni costiere non solo da anni stanno portando avanti. Sono già diversi anni che Silvi si colloca tra le eccellenze della costa abruzzese, costa abruzzese che sottolineo è in un trend altamente positivo perché ha incrementato con un'altra bandiera il numero del 2023 e si colloca proprio al ridosso del podio delle migliori regioni dal punto di vista della bandiera blu e quindi di conseguenza essere parte integrante di un'eccellenza, insomma credo sia giusto essere orgogliosi. Io sono uno di quelli che crede tanto nell'ATS tra le sette sorelle pertanto andiamo avanti e godiamoci anche questi risultati perché qualche volta è giusto anche sottolineare quando si arriva al traguardo, beh ecco il duro lavoro paga. Un riconoscimento quello della bandiera blu che contraddistingue prodotti e servizi turistici con elevati standard prestazionali e caratterizzati da un ridotto impatto ambientale. Per questo motivo il comune di Silvi si augura che possano arrivare altri importanti riconoscimenti. Beh credo proprio di sì perché in realtà il sistema diciamo è a step quindi pertanto se si è diciamo meritevoli di considerazione dal punto di vista appunto dell'impianto della bandiera blu si giunge facilmente al raggiungimento di altre bandiere. L'amministrazione comunale Silvarola sta anche lavorando all'acremente per organizzare iniziative che possono attrarre i turisti nella località di Vierasca della provincia di Teramo in vista dell'imminente stagione estiva. Beh assolutamente siamo in dirittura d'arrivo, presto ci sarà anche la presentazione di tutti gli eventi dedicati ai turisti e ai residenti, pertanto cominciamo a scaldare i motori per un'estate che si preannuncia densa di eventi.